Continua la corsa al premio del Ciliquiz, vedremo chi alla fine si aggiudicherà l'allenamento con la prima squadra. Ragazzi avete 5 secondi per presentarvi. Ciao a tutti, sono Simone Ravelli e gioco negli allievi regionali RIT. Sono Paolo Bonetti degli allievi 2004 e faccio il terzino destro. Prima domanda, quanti campionati ha vinto da presidente Nicola Bianchini? Nessuno. Uno. No, la risposta corretta erano due. Quello di promozione e poi quello di eccellenza. Ah, è vero, eccellenza. Seconda domanda, Marco Romeo allena quale squadra dell'attività di base? Quindi, 2011. Oh, bravissimo Simo, ti sei gettato di sicuro e azzeccato, sono gli esordienti del 2008. Quale squadra, questa è un po' più difficile come domanda, del Ciliverghe ha vinto l'ultimo torneo della Befana? 2000 e... 2009. 2009. Erano i pulcini del 2011. Quanti risultati utili consecutivi ha fatto la prima squadra prima della pausa forzata? Erano... 3? 8? Erano 4, la vittoria contro la Savignanese, i pareggi contro Correggese e Breno ed infine la vittoria contro l'Alfonsine. Ultima domanda, facilissima e soprannominato il re. De Angelis. Bravi, almeno sull'ultima ne siete usciti alla grande, era De Angelis. Quindi, la sfida se la giudica Simone. E andiamo... No. Ragazzi, grazie, alla prossima. Grazie a voi, ciao ciao. 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 Ciao.